Sì, è chiaro che laddove ci sono problemi di privacy è necessaria una più ampia condivisione. In merito all'applicazione si tratterebbe di ovviamente dati sanitari che immediatamente dopo la fine dell'emergenza non dovrebbero più essere utilizzati. Però capisco le preoccupazioni che questi dati poi possono essere utilizzati per qualcos'altro. Quindi è chiaro che a mio avviso si tratta di dati che devono essere gestiti così come per le cartelle informatizzate e per tutti i dati sanitari ovviamente dallo Stato. Però sarà dentro una legge, dentro un decreto? Questo lo vedremo adesso nei prossimi giorni. Io però se mi consente volevo un attimo far chiarezza se mi dà 20 secondi sulla validazione dei test perché sembra che sia una validazione burocratica determinata dal governo, dallo Stato, da chissà chi. È una validazione scientifica. Attenzione, non confondiamo. Cioè si tratta di dover individuare quello che è il test migliore per evitare rischi. E invito tutti, siccome tutti parlano, tutti sanno. Ma nelle regioni però già li usano. Ma li usano come, guardi, li usano per anche testare quello che è il migliore e hanno utilizzato quello che a loro avviso su studi, su alcuni soggetti. Guardi, ho dato anch'io il sangue perché l'università mi ha detto possiamo usare il tuo sangue e quello di un altro che è venuto con me, che era stato positivo anche lui, per testare e capire qual è il migliore. Parliamo di dieci giorni fa, eh? Di dieci giorni fa. Quindi lo stanno testando e alla fine hanno tirato delle concursi dicendo fra quelli che abbiamo provato questo sembra il migliore. Ma la validazione non è una validazione politica o di che è scientifica. Beh, c'è anche un aspetto commerciale. C'è anche un aspetto commerciale, diceva Pettio. Sì, ma l'aspetto commerciale, guardi, per gli scienziati viene francamente sempre dopo. E io invito chiunque parla ad andare a vedere un articolo su Nature di qualche giorno fa che parla proprio dei testi serologici. E conclude, quindi non è una conclusione italiana quella del dubbio, è una conclusione mondiale. Cioè, attenzione a quello che andiamo ad utilizzare. Quindi quello che è di meglio lo usiamo come si diceva prima. Però la ricerca del meglio richiede del tempo e richiede ricerca. Ricerca che è stata fatta in varie regioni e hanno fatto bene, secondo me. Allora, Presidente Ceriscioli, invece...